Buongiorno a tutti ragazzi, eccomi, scusate se oggi non ci siamo visti in pausa pranzo ma sapevo che la conferenza stampa era fissata per le 14.15 e quindi ho deciso semplicemente di aspettare a caricare il contenuto per parlarne poi insieme qua. Tra l'altro vi dico che ho già registrato un altro video, sono 40 minuti secchi, secchi e precisi in cui racconto quella che secondo me è stata un po' la colpa da parte della dirigenza dell'Iventus se vado a ripercorrere un po' tutte le tappe che hanno portato a questa situazione attuale lato Juve. Ve lo faccio uscire domani, dato che è un contenuto abbastanza lungo, anche complesso, forse pure pesante. Domani è match day, invece che analizzare la partita voglio proprio fermarmi un secondo a parlare ancora di quelle robe lì perché come ben sapete io adoro parlare di calcio, parlare di campo ma in questo momento è molto molto complicato e siccome questa è la sconfitta maggiore in assoluto che possiamo avere al di là di tutte le altre perché quando arrivi a non avere più così tanta voglia di parlare invece del pallone perché ci sono altre cose a discutere, secondo me non è una cosa positiva. Ragazzi vi invito a scaricare il numero 10, il link è qui sotto in descrizione, ci sono tanti articoli che vado a scrivere mese per mese, ci sono ovviamente anche alcuni video esclusivi che vado a pubblicare sull'applicazione, se non volete perdervi nemmeno uno dei contenuti esclusivi scaricatela gratuitamente, il link ve lo lascio qui sotto in descrizione. Allora, conferenza stampa e preparazione a Juventus Lazio, Coppa Italia, partita secca, chi vince va in semifinale, sono i quarti di finale, una partita che in questo momento faccio un po' fatica a comprendere, nel senso che non ho veramente niente a cui aggrapparmi, anche la conferenza stampa veramente ha parlato poco e niente dei calciatori, ci sono stati due richiane particolari, uno su Pogba, pessime notizie lato Pogba, andremo ad analizzarle insieme, ci sono state due o tre cose che non mi sono piaciute e vorrei discutere insieme a voi. I giocatori sono arrabbiati e dispiaciuti, domani è un'altra competizione, mettiamo da parte il campionato e ricominciamo poi lunedì prima di andare a Salerno, domani è una partita difficile contro una squadra che sta facendo ottime cose in campionato, è una partita secca, va giocata con i canoni di una partita unica. Giallegri qua mette ben in chiaro un concetto, domani è Coppa Italia in un campionato e questa è soltanto la prima volta che va a raccontare questa sua posizione, poi diciamo che ci sono altri momenti in cui questo concetto viene espresso con più enfasi possibile e ho avuto una lettura che spero non sia quella corretta. Siamo ripartiti, è un altro campionato che è iniziato il 4 gennaio, a parte rabbia e gli argentini gli altri sono usciti tutti prima dal mondiale. Domani mattina deciderà la formazione ma l'unico non disponibile oltre a Bonucci è Pogba che ha un affaticamento ai flessori, dopo tante inattività tornano fuori dolori, c'è bisogno di tempo. In realtà non è proprio esatto, anche Milik non è disponibile, non è pronto, dato che sappiamo che sarà fuori per un mese, penso, forse qualcosina anche di più, quindi Bonucci, Pogba e Milik non saranno disponibili per la partita di domani. Se pensiamo a domenica, nel primo tempo abbiamo fatto tutti una brutta prestazione, con tre cambi nell'intervallo poi siamo andati meglio, abbiamo fatto un secondo tempo di reazione con tanti tiri ma non abbiamo vinto e l'importante è quello, abbiamo buttato al primo tempo. Secondo me secondo tempo ci sono stati sì tanti tiri ma è stato un secondo tempo non giocato bene comunque dalla Juventus dove non avrebbe meritato comunque di andare a pareggiare almeno il Monza. Paredes ha fatto partite brutte e partite buone, ha giocato spesso anche all'inizio quando non era pronto ma Locatelli non era disponibile. Questi quattro mesi sono importanti e deve darci una mano come tutti nella rosa. Allora qua apro una parentesi, il discorso di domenica, non riferimento proprio a Paredes ma Allegri dice ci sono alcuni giocatori che probabilmente non ce la fanno, non sono in grado, è l'ora che si andano da parte e che giochino solo quelli pronti. E oggi invece ci danno una mano tutti, cioè con queste diverse vedute, questi diversi schiaffi tra virgolette che terevano in faccia la parte della comunicazione di Allegri che in questo momento non comprendo. Secondo me domenica era arrabbiato e ha detto delle cose che non avrebbe dovuto dire che doveva tenersi dentro, abbiamo già affrontato il discorso, questa è la linea invece del politicamente corretto che dovrebbe tenere sempre l'allenatore. Sembrano frasi però dette da due persone differenti, invece la stessa persona a distanza di quattro giorni l'una dall'altra, tre giorni l'una dall'altra. Vlaovic dovrebbe giocare dall'inizio, questa è sicuramente una buona notizia per i tifosi della Juventus e domani mi auguro, spero di poter vedere per la prima volta in campo chiese Vlaovic contemporaneamente, magari pure di Maria. Infatti dopo questa domanda gliel'hanno fatta a proposito del tridente, secondo me comunque la Juventus da qui a breve dovrà cambiare il sistema di gioco, eventualmente ne parleremo più avanti in attesa della partita di martedì. Vlaovic quasi sicuramente giocherà, gli altri devono ancora decidere soprattutto nell'ottica di una partita da 120 minuti potenziali, le sostituzioni possono essere fondamentali. Secondo me da questa frase tradotto Federico Chiesa non parte titolare, poi magari lo metterà titolare a sorpresa un po' come è accaduto col Napoli, però io l'ho già detto tante volte, secondo me Chiesa nel 3-5-2 a destra per come lo intende il Lega il 3-5-2 viene abbastanza rovinato. Poi se cambierà il sistema di gioco o addirittura lo utilizzerà come punta di fianco a Vlaovic, beh, io questo non posso saperlo. Chiesa di Maria e Vlaovic è una soluzione che avevo in mente dall'inizio, le vicissitudini del calcio con Pogba di Maria e Chiesa fuori però hanno fatto sì che abbiamo trovato un assetto di squadra diverso. Quando poi rientrano da tanti mesi dell'infortunio è difficile, si fatica a mettere in moto addirittura le macchine ferme da un anno, figuriamoci i calciatori. Pogba ha indolenzimenti dolori e ci vuole un po' di tempo, così come è servito un po' di tempo a Chiesa. Magari Pogba tra due o tre mesi sarà in forma, beh dai, ad aprile, mica male. La squadra deve mantenere un equilibrio che nelle ultime partite non abbiamo avuto. Qua è proprio una risposta sviolinata, politicamente corretta, in cui si dice tutto e non si dice niente. Dice Allegri, inutile parlare di cose oggettive, differenza tra valutazioni di mercato Italia e Inghilterra, quindi Serie A Premier League. Noi abbiamo fatto un buon mercato perché McKennie voleva andare via, abbiamo trovato una buona soluzione. A che zuelli sono andati? Pellegrini era Lazio, che troveremo domani. Calcio italiano-inglese ha un rapporto 1-4, le 20 italiane fatturano 2 miliardi, le 20 inglesi invece 8. Se la matematica non è opinione, il rapporto è di 1-4. Questi numeri non li posso confermare, penso che siano corretti, mi auguro che siano corretti. Verificheremo poi, eventualmente, se vorremmo approfondire questo tipo di argomento. L'Europa League è un obiettivo diverso al campionato. Gli fanno una domanda sull'Europa League e poi parla della Coppa Italia, non ho capito? Perché dice, dopo la reazione buona che abbiamo avuto con l'Atalanta, ora dobbiamo essere bravi, perché i 15 punti non sono un alibi. A quello ci penserà la società, se ce li ridaranno saranno loro a fare in modo che possa accadere. Può essere un contraccolpo, ma non può essere un alibi o una giustificazione. Penso sia la prima volta che accade una penalizzazione simile in mezzo al campionato. Ora il nostro obiettivo è riprendere pian piano un passo alla volta. Domani è Coppa Italia, completamente differente. E poi Allegri dice una frase che mi ha preoccupato, perché dice E faremo il massimo in campionato. In che senso? Cioè, mi ha dato un po' da fare, perché sta parlando della Coppa Italia, dice E faremo il massimo e poi ci tiene a specificare in campionato. Ho avuto questa sensazione di domani della Coppa Italia, ma in questo momento dobbiamo preoccuparci del campionato. Cioè, se mette insieme l'uscita dell'altro giorno, dobbiamo pensare a salvarci. E il modo in cui ho risposto a questa domanda mi viene quasi da dire Che l'Europa League e la Coppa Italia, se arrivano bene, se non fa lo stesso, perché la priorità è salvarci in campionato. Magari perché c'è la paura che questi 15 punti non vengano redati. Magari perché c'è la paura che vengano andati più punti di penalizzazione. Io spero che la lettura sia errata, perché se indossi la maglia della Juventus devi omaggiarla sempre, rispettarla sempre, dare sempre il massimo. Però faremo il massimo in campionato, mi porta a una lettura differente, cioè, va bene, in campionato dobbiamo dare tutto noi stessi. E questa cosa viene confermata dopo, perché dice, quadrato in grande forma sta bene, è normale che dopo una scossa serve un assestamento, dobbiamo essere bravi per farlo avvenire velocemente. Ci sono micro obiettivi da raggiungere, e ancora una volta dice, da lunedì, perché siamo tredicesimi e dobbiamo raggiungere quelli che stanno davanti. Domani mi sembra un altro obiettivo, cioè, domani c'è la Coppa Italia, mi sembra un obiettivo la Coppa Italia, non lo è? Cioè, perché faremo il massimo in campionato? Ci sono dei micro obiettivi da lunedì, cioè, mi sembra che si stia dando delle risposte dentro le righe, tradotto, vabbè, ma la Coppa Italia. Invece il campionato, sai, dobbiamo salvarci. Ho un po' paura, ecco, che ci possa essere una brutta sorpresa domani. Allegri poi dice, da Pogba mi aspetto un contributo, come da un giocatore che da aprile ha fatto 15 giorni in preparazione, poi 45 minuti, poi si è fermato. I tempi sono quelli, i miracoli non li fa nessuno, il suo corpo, il suo ginocchio dobbiamo aspettarli. Sappiamo che da qui alla fine va sfruttato a seconda dei momenti in cui sta bene, ma infatti, cioè, se questo è, cioè, capisco che è vero l'affaticamento, il dolorino può venire fuori, però è lo stesso Allegri che poi ti dice, magari in forma tra due e tre mesi, tra uno e due mesi, due e tre mesi. Sappiamo che da qui alla fine dobbiamo sfruttarlo solo nei momenti in cui starà bene, cioè, sembra proprio che anche qui Allegri ti stia dicendo, guarda che Pogba quest'anno, contalo, non contalo, puoi contarlo, non contarlo, anche prima diceva, ma Chiesa Vlauvi, Cilmaria? E diceva, ma le vicissioni nel calcio con Pogba che va fuori, ma cosa c'entra? Quello è un tridente, senza Pogba non lo puoi fare, cioè, anche qui risposte un po' bizzarre, che fatico a comprendere sinceramente. Poi c'è una risposta che, qua palesemente per proteggerlo, ma lontano dalla verità, gli dicono, Bremer abbiamo visto un po' in difficoltà col Napoli e col Monza, lui dice, in difficoltà col Monza? No, 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 assolutamente no, nel secondo tempo siamo andati meglio, ma nel primo tutti no, Bremer col Monza è andato in netta difficoltà, è stato evidente, e poi sottolinea ancora Allegri dicendo, c'è da lavorare, fare, agire, non possiamo attaccarci agli alibi. È stata una conferenza stampa molto asciutta, questa della verità, molto meno anche cara, non c'è stata nemmeno quella carica che invece c'era stata nelle altre due conferenze stampa post penalizzazione, quasi una conferenza stampa a dire, la devo fare, diciamo due o tre robe, facciamo l'elenco degli infortunati, non andiamo nemmeno dentro i dettagli. È stata una conferenza stampa anche breve rispetto al solito, siamo a 11 minuti di registrato e l'abbiamo già analizzata tutta, quindi questo fa capire anche, dato che sono logorroico, che c'è stato poco anche di cui discutere, non ci sono nemmeno stati argomenti interessanti. L'unica cosa certa è che in questo momento il tifoso della Juve non può nemmeno essere contento, tra virgolette, per il recupero di tutti i calciatori, non riusciamo veramente a fare una partita in cui riusciamo a convocare Chiesa, Vlaovic, Pogba e Di Maria tutti insieme, che bene o male sono i quattro punti a cui magari lo stesso Allegri voleva aggrapparsi in questa stagione, proprio non ce la facciamo, non credo che riusciremo mai a vedere nemmeno una volta la Juve tipo in campo, magari la Juve è schierata in un certo modo, deve essere negativo anche da questo punto di vista e sapete bene che io di natura sono sempre abbastanza positivo, però sono le risposte dello stesso allenatore che mi fanno pensare, una roba del genere. E quindi niente, ragazzi, fatemi sapere un po' le vostre impressioni anche qui sotto della formazione, magari parleremo domani sui vari social, proprio perché come vi dicevo ho già registrato un nuovo video e sarà abbastanza tosto.